In questa lezione metteremo a frutto le nostre conoscenze e in parte competenze relative alle proteine, agli acidi nucleici, ai geni e alla loro espressione. La proteina che useremo come base di tutta la lezione è una proteina conosciutissima, si chiama GFP, Green Fluorescent Protein, cioè proteina a fluorescenza verde. È una proteina scoperta nel 1962 in una medusa chiamata ecorea-victoria da Shinomura e altri, è formata da 238 amminoacidi, pesa una trentina di chilo d'alto, una proteina relativamente piccola. Da questa proteina sono state ottenute, mediante biotecnologie, proteine di fusione, ad esempio con fluorescenze diverse rispetto alla verde originale. È una proteina interessante per noi anche perché è funzionale solo se è in struttura quaternaria, ripassate le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria e il relativo folding, unfolding e misfolding delle proteine. La struttura è una struttura tipica di molte proteine, un beta-barre, quindi la formazione di un barile, in cui ogni singolo monomero della struttura quaternaria è formato da un'alfa elica centrale circondata da 11 foglietti beta antiparalleli. Questo cilindro ha un diametro di circa una trentina di hamstrung e un'altezza di circa 40. Nell'elica centrale è presente il fluoroforo. Il fluoroforo è formato da tre amminoacidi, serina, tirosina e glicina in posizione 65, 66 e 67. devono maturare, c'è un processo di maturazione abbastanza lungo in cui alcune fasi, fra le quali un'ossidazione reversibile, permette la formazione di una proteina funzionale che è in grado di mettere questa fluorescenza verde. È abbastanza termostabile, anche a temperature relativamente alte, ma funziona meglio a basse temperature, ricordiamoci l'origine marina, quindi in acqua a temperature relativamente basse. È una proteina stabile in ambiente di laboratorio, ad esempio il sodio di 12-solfato 1%, 6 molare di urea che è particolarmente alta, 65 gradi e pH 11 permettono ancora l'emissione di fluorescenza. Al contrario, in condizioni di pH acido, la fluorescenza viene spenta. Come avevamo già in parte visto nella fotosintesi e anche negli enzimi, in enzimologia la presenza di specifici amminoacidi è fondamentale per l'attivazione di una proteina, in questo caso l'emissione di luce verde. Quindi si può immaginare che la sostituzione di uno o più amminoacidi fondamentali possa alterare molto la struttura della proteina e alterare quindi l'emissione di luce, ad esempio spegnendola o al contrario permettendo forme di fluorescenza diverse da quella verde. In effetti oggi sono, grazie alle biotecnologie, disponibili numerose forme di proteine fluorescenti in generale, non solo green ma anche di colori diversi, quindi di green fluorescent protein e di fluorescent proteins in generale. Guardate, alla temperatura di 37 e di 30 gradi si vede chiaramente, come vi ho poco prima accennato, che a temperature relativamente basse la fluorescenza è migliore. Quindi un pochino più bassa, a 37, migliore a 30 gradi. Quali sono oggi, in realtà la rivista del 2003, le principali proteine fluorescenti? Beh, ci sono la WALTAM, quindi l'originale, quella che è presente ancora in Ecorea Victoria. Poi ci sono varianti verdi, come la EGFP, che ha una termostabilità più alta e una fluorescenza migliore. La Ciano GFP, quindi una blu, una GFP che è stata trasformata in ECFP. Una yellow FP, quindi una giallo-verde proteina, una yellow Venus che matura più velocemente e ha una fluorescenza migliore rispetto alla gialla precedente. Una giallo-limone più fotostabile comparata con la precedente. Qui si vedono ovviamente le differenti fluorescenze quando gli estratti proteici vengono sottoposti a luce ultravioletta. Quindi vedete alcuni di questi campioni non reagiscono, altri reagiscono in maniera notevole, dando fluorescenze ovviamente a volte ben diverse dal colore originale. Beh, questi sono gli aminoacidi principali che saltiamo. Ovviamente possiamo immaginare che la sostituzione di questi aminoacidi con altri, quindi l'alterazione della struttura, vedete in questo caso, possa portare alla produzione di colori differenti. Ovviamente si può immaginare che buona parte di queste mutazioni siano negative e sono state ovviamente eliminate dalla ricerca. Qui ci sono tre bellissimi spot di yellow, di red e di green fluorescent protein. Quali sono i bersagli subcellulari della GFP? Beh, la GFP entra in buona parte dei componenti della cellula. Quindi se io introducessi e facessi esprimere una cellula, la GFP o altra FFP, potrei trovarla in varie zone come la membrana, il nucleo, i reticoli, può essere presente nelle vescicole secretorie, mitocondri, perossi isomi, vedete un po' dappertutto. Normalmente, essendo una proteina relativamente grande, abbiamo visto abbastanza stabile, che non dà problemi a livello sperimentale, cioè è relativamente agevole da utilizzare. Ad esempio, qui vedete l'utilizzo della GFP nelle cellule dell'endoderma di una radice. Quindi, in questo caso, la GFP si è localizzata solo nelle cellule dell'endoderma, e quindi quando vado in fluorescenza, vedo una tipica fluorescenza rossa che vedrei comunque, quindi non dipende dalla presenza di proteine particolari, ma è la fluorescenza rossa delle pareti, e vedo invece una buona, un'ottima fluorescenza verde solo nelle cellule di questa struttura specifica delle radice, che si chiama endoderma. Quindi, mi permette, ad esempio, di localizzare alcune strutture rispetto ad altre, o anche vedremo, formando delle proteine di fusione, la presenza di espressioni specifiche. Qui, sempre in una radice, siamo andati a vedere la presenza di istoni, quindi istoni con attaccata la GFP. Quindi, in realtà, non vedo l'istone, vedo la GFP. Ma sapendo che la GFP è ricombinante insieme a l'istone, questo mi dice anche dove si trova l'istone. Oppure, qui, usando tecniche un pochino più raffinate, mi permette di andare a lavorare sui circuiti cerebrali. E qui vediamo i neuroni, che possono essere ovviamente colorati con GFP differenti, ricostruiti in 3D al computer, permettendo di capire sia l'architettura, sia i circuiti cerebrali. Andiamo adesso a vedere un po' di metodologia sperimentale. Ci stiamo inserendo, stiamo entrando nel campo delle biotecnologie. Ovviamente, cercheremo di riassumere il più possibile, data la situazione contingente. Come possono essere espresse le proteine fluorescenti negli organismi di studio? Ad esempio, mediante fenomeni di trasfezione negli animali, trasduzione usando dei retrovirus, i batteri possono essere trasformati e le piante possono essere sia trasformate che transfettate. Quindi, dicevamo, la trasfezione è un processo tipicamente eucariotico di inserimento di materiale genetico all'interno del cerebro eucariote. La trasformazione prevede invece l'utilizzo di batteri. La trasduzione retrovirale prevede l'utilizzo di retrovirus che sono in grado di inserire nel genoma dell'ospite, grazie alla retrotrascrittasi, poi una parte di gene di interesse. La trasfezione è quel fenomeno che mi permette di inserire sequenze all'interno di cellule eucariotiche. La trasduzione retrovirale invece prevede l'utilizzo di retrovirus che grazie alla retrotrascrittasi sono in grado di inserire geni nella cellula ospite. La trasformazione invece è tipicamente batteria, quindi si utilizzano i batteri. e questi sono i metodi principali. Con i batteri abbiamo il fenomeno della trasformazione che può prevedere varie tecniche, fra le quali ad esempio l'elettroporazione mediante elettricità, oppure tecniche che prevedono uno shock di tipo termico, con cellule rese competenti precedentemente, adesso senza entrare troppo nei dettagli. In questo caso specifico di questo lavoro è stato usato un plasmide, cioè una sequenza di DNA circolare relativamente piccolo, in questo caso sono 10.500 basi circa, e i plasmidi sono naturalmente presenti nei batteri, quindi non fanno parte del cromosoma, dell'unico cromosoma circolare, ma sono sequenze molto più piccole che portano geni molto specifici, ad esempio di resistenza agli antibiotici e similari. Questo plasmide è commerciale, quindi non è naturale, è un plasmide fatto grazie alla diotecnologia, è un P cambia 1302, insomma ci sono alcune sequenze specifiche, ad esempio importanti per noi alcune resistenze, ad esempio la resistenza alla canamicina, cioè quando questo plasmide esprime la resistenza alla canamicina, io posso somministrare l'antibiotico e ovviamente il batterio che presenta il plasmide resiste, vive, mentre il batterio che non lo presenta, al contrario, muore. Quindi questo tipo di resistenza serve per discriminare i batteri trasformati da quelli che non possiedono ovviamente questo sito. Qui vediamo un promotore, un 35S che è un promotore molto attivo, molto buono, questo è un altro promotore di cauli flori insomma, dopodiché una resistenza, un'altra resistenza alla igromicina e delle zone dove andremo a inserire il nostro gene di interesse. Questo gene è stato costruito precedentemente, è il gene di proteine che abbiamo già visto, ATP-NG1P, quindi una proteina che è stata studiata da me nel passato. Ecco, vedete, la clonazione vuole dire inserire questo gene all'interno del nostro plasmide picambia, utilizzando quelli che sono i siti di restrizione, cioè dei siti in cui viene tagliato il DNA in maniera molto specifica, come abbiamo visto nella lezione precedente. Ovviamente la clonazione va fatta in frame, vi ricorderete le sei fasi di lettura, fuori e reversi, io devo fare in modo di produrre la mia proteina con i miei aminoacidi, quindi la fase di lettura è fondamentale, non può essere sbagliata. Ovviamente questa fase richiede una programmazione non indifferente del lavoro e una quantità di prove per essere certi che la clonazione sia avvenuta e sia avvenuta anche nel modo corretto. Qui in questo caso, ad esempio, abbiamo usato due siti di restrizione, due enzimi di restrizione, che erano ottimali per il nostro lavoro, cioè NCO1 e BGL2, non sempre è così facile identificare degli enzimi e dei siti corretti. In questa sequenza, che è una sequenza in cui sono presenti molti siti di restrizione, per cui mi permette di scegliere fra tutti questi due siti che possono essere per il mio frammento ideali, quindi c'è una possibilità non indifferente. Poi con le biotecnologie posso anche modificare i siti di restrizione e inserirli dove non fossero presenti. Grazie a tutti.